Le varie componenti della velocità assolute relative, l'espressione in funzione del geo-reazione cinematico e dei vari parametri dimensionali che stiamo utilizzando, in particolare il triangolo delle velocità risulta completamente definito una volta che abbiamo assegnato la velocità U, abbiamo assegnato il valore del coefficiente di plusso, del lavoro adimensionalizzato e del geo-reazione cinematico. Abbiamo detto che alla mezzeria abbiamo tutti i quantitati che ci servono per calcolare il triangolo delle velocità, partendo da coefficiente di lavoro pari a 0,252, coefficiente di plusso pari a 0,5, grado di reazione cinematico pari a 0,5. Ci siamo ricapati il valore di U alla mezzeria partendo dal fattore di forma che abbiamo imposto e partendo dalla velocità limite che abbiamo fissato all'apice, pari a 297,5 metri al secondo. In realtà possiamo immaginare tutte le espressioni che abbiamo scritto ieri, ad esempio, la C1U, funzione pari a 1-R, meno 6,5 metri a 0,5, sostituiamo i nostri dati e otteniamo 111,3 metri al secondo. Io aggiungo qui un predice M a indicare appunto che questi sono i valori che stiamo calcolando alla mezzeria della parte. Non ripeto le espressioni che avete scritto, vi do direttamente i valori. La C2U, la componente periferica all'uscita della nostra schiera erotolica della velocità assoluta, pari a 186,2 metri al secondo, la W1U, la C2U, la C3U, la C2U, la C3U, la C3U, le componenti periferiche delle velocità relative, la W1U è 186,2 ms, la W2U alla mezzeria è 111,3 ms, c1 e c2 che ce le ricaviamo ovviamente secondo il teorema di Vitarra la componente periferica con la Cm che anche vale la Wm pari al 148,8 ms, valore che ci siamo ricavati in base al coefficiente del corso che abbiamo imposto, la C1 vale 185,8 ms, la C2 stiamo parlando allo stadio di una macchina operatrice attraverso la schiera rototica, la velocità assoluta aumenta quindi 238,3 ms, facciamo lo stesso, calcoliamo il modulo delle velocità relative, quindi componente periferica più componente meridiana, W1U è 238,8 ms, W2U è 185,8 ms, la realizzazione di un'area cinematico 0,5, come potete vedere, direi anche quelle delle velocità che si formano su un'isoscete, la C1 è pari alla W2, la W1 è pari alla C2 per vari componenti anche come potete vedere, possiamo calcolarci il valore dell'angolo β1, 38,6 gradi, il valore dell'angolo β2, misurato rispetto alla direzione periferica, come abbiamo specificato i tempi, 53,2 gradi, alfa con 2, 38,6 gradi, possiamo calcolarci la deviazione della schiera rototica pari a β2-β1, risulta 14,6 gradi, che in questo caso sarà proprio uguale anche alla direzione della schiera rototica, alfa con 3-alfa con 2, ricordandoci che stiamo facendo degli stati ripetuti, alfa con 3 è proprio pari ad alfa con 1, risulta la direzione della schiera rototica ancora a 14,6 gradi. in ultimo ci servirà più avanti, delta la variazione delle componenti periferiche, è la stessa cosa se ragioniamo in termini di velocità assoluta o relative, alla mezzeria di velocità risulta pari a 74 di 2 a 9 nel secondo. Ora, le relazioni parametriche che ci siamo ricavati ieri ovviamente valgono la mezzeria, come valgono all'apice e come valgono al mozzo, la banda della parte. All'apice ad esempio noi conosciamo quanto vale la velocità U di rascinamento, l'abbiamo proprio imposta noi in realtà, ci siamo messi a quelli pari al valore limite sopportabile, sappiamo quanto vale il coefficiente di lavoro, non sappiamo quanto vale il coefficiente R, il grado di reazione cinematico, perché noi abbiamo imposto un grado di reazione cinematico alla mezzeria, stiamo svergolando a vortice libero, sappiamo quindi che questo grado di reazione cambierà lungo l'altezza della parte. Sarà più piccolo alla base, tenderà a crescere man mano che ci spostiamo verso l'apice. Quindi prima di risolvere i triangoli delle velocità alla base e all'apice, dobbiamo ricavarci il valore del grado di reazione cinematico al diametro interno e al diametro esterno, secondo la dimensione che abbiamo tutta per noi. Come facciamo? Stiamo svergolando a vortice libero, quindi in generale la componente periferica della velocità al bordo 1 deve essere pari a una certa costante K1 tratto R il raggio alla sezione a cui stiamo valutando appunto la C1. Quindi possiamo scrivere che la C1 alla mezzeria è pari a questa costante K1 fratto il diametro alla mezzeria diviso 2 e allo stesso tempo, ad esempio, la componente periferica della velocità al diametro esterno deve essere ancora pari alla stessa costante K1 fratto il diametro esterno diviso 2 e allo stesso tempo. C1 fratto il diametro al diametro esterno quindi sarà pari al rapporto proprio tra il diametro esterno e il diametro di mezzeria. la componente periferica della C1 fratto il diametro esterno è pari alla componente periferica della C1 la componente per il diametro esterno alla mezzeria per il rapporto di N sull'icone, ossia il parametro di forma K che abbiamo introdotto ieri pali, vi ricordate, il diametro interno sul diametro esterno, abbiamo perso qualche minuto a rilevarci tutti i vari rapporti ai diametro in funzione di quello per C1 M, ci ricaviamo il valore della componente periferica della C1 all'apice della patra viene 94,6 M al secondo lo stesso possiamo fare per la componente periferica della C1 all'interno abbiamo sempre la stessa relazione quindi sarà C1 U alla mezzeria per il diametro alla mezzeria fratto il diametro alla base della patra ci siamo raffreddati e quindi abbiamo deciso di raffreddare questo diametro questo è il problema quello che deve raffreddare ci siamo raffreddati sono raffreddati ci siamo raffreddati che il rapporto tra questi due di diametro e quali a K più 1 fa 2 volte K per C1 alla mezzettina pari 135,2 metri al secondo. Abbiamo queste due relazioni, quindi il valore delle componenti periferi e la velocità assoluta al bordo 1, questa che io vi ho richiamato prima vale sempre, non solo alla mezzeria ma ovviamente vado anche alla base dell'acqua. Quindi in generale la C1 è pari a 1 meno nero. Si mezzi per U, ossia R è pari a 1 meno si mezzi, meno, componente periferica della velocità C1 fratto 1, quindi grado di creazione cinematica all'apice, 1 meno coefficienti di lavoro all'apice, ce lo siamo già calcolati ieri, meno componente periferica della velocità C1 all'apice fratto velocità di frascinamento all'apice. Lo stesso, grado di creazione cinematica alla base, 1 meno coefficienti di lavoro alla base, meno componente periferica della velocità C1 alla base della C1 fratto, fratto velocità di frascinamento all'apice. grado di creazione cinematica all'apice è 0,639, grado di creazione cinematica alla base che è 0,260, grado di creazione cinematica. A questo punto possiamo risolvere i triangoli delle velocità, anche al diametro esterno, io vi do direttamente i valori. Cominciamo con il diametro esterno D uguale a Q1 E, quindi questo sarà Q1 E, Q1 E, R1 E, richiamiamoli il lavoro dimensionalizzato è 0,182, coefficiente di flusso 0,425, grado di creazione cinematica 0,639, la velocità U l'abbiamo fissata pari a 350 metri al secondo. e quindi il lavoro è 0,839, la velocità U l'abbiamo fissata pari a 350 metri al secondo. quindi 94,6 ms per quanto riguarda la C2U 158,2 ms, le componenti periferie della W sono la W1 255,4 ms, la W2U 191,8 ms, la W2U 191,8 ms, cefale E. C1 E, 30 metri al secondo. C1 156,3 Ms, la robot E, 217,2 Ms, la motori C2 217,2 Ms, la quattro E, 1, 295,5, W2, 242,7, β1 vale 30,2 gradi, β2 vale 37,8 gradi, α1, 57,6 gradi, α2, 43,2 gradi, ερ, la deflizione che il fluido subisce attraversando il condotto rotolico, quindi sempre β2-β1 vale 7,6 gradi, la deflizione che il fluido subisce attraversando il condotto statorico, lo stadio è sempre ripetuto, quindi α3, uscita statore, è pari ad α1, e vale 14,3 gradi, la variazione delle componenti periferie della velocità è 63,6 m², la c con n ovviamente vale sempre, 148,8 m², stiamo svergolando a vortice libero, quindi la componente mediana della velocità non varia quando ci spostiamo a vortice. Grazie. 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 la WQ2U, moduli delle velocità, la C1 vale 201 metri al secondo, la C2 270,6 metri al secondo, WQ1 184,9 metri al secondo, WQ2 149,9 metri al secondo, beta 1 gradi sessi rispetto alla direzione periferica 53,6 gradi, beta 2 82,8 gradi, alfa con 1 47,8 gradi, alfa con 2 33,4 gradi, deflessione attraverso i condotti rotolici 29,2 gradi, deflessione attraverso i condotti statorici 14,4 gradi, la componente meridiana ovviamente è sempre 148,8 metri al secondo, la variazione delle componenti periferiche attraverso il rotore è 90,9 metri al secondo. Grazie. 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 Proviamo a disegnare questi angoli delle velocità e facciamo un disegno un po' effettivo lì rappresentiamo la forma volare l'altezza è data dal valore di c con m partiamo da quello di pizzeria reale di reazione cinematico 0,5 quindi il triangolo delle velocità di infinito sarà un triangolo risoscere R per U, 1 meno R per U siamo alla mezzeria riportiamo la variazione della componente periferica si, coefficiente di lavoro per un m coefficiente di lavoro per un m grazie le nostre velocità, questa è la doppio confinito, doppio v1, doppio v2, c con 1, c con 9. A diametro interno, l'altezza del triangolo della velocità resta lo stesso perché è il valore della c9m. A diametro alla mezzeria r è 0,5 quindi è più uguale a 1-r questo triangolo di risoscide, al diametro interno r è più piccolo di 0,5, tra l'altro anche la u sarà più piccola rispetto a quella che abbiamo detto, il triangolo delle velocità all'infinito è square, questa è la u con i, questa è la c infinito, questa è la r per la velocità alla base, 1-r per la velocità 1 alla base. delta c con u alla base uguale sempre a c, i per u con i, è più grande di quella che abbiamo alla mezzeria, se andiamo a controllare i nostri volti, la riportiamo in parti uguali per la velocità sia dall'alto delle velocità relative che dall'alto delle velocità assolute. qui, la posizione, la ipotesi che vediamo alla vecchia. otteniamo qui, una di scena, vabbia, vabbiamo la coppia 0,5, Bocchiamo il condome. Vedete l'angolo beta 2, questo, viene quasi 90 gradi, 82,8 abbiamo questo. Stesso discorso all'angolo. Stiamo a mantenere un po' di proporzione che lo sentiamo sotto. Questa non ci mettiamo. Questa non ci mettiamo. Grazie. Il triangolo delle velocità. Forma volare, l'altezza è sempre il ciponemme. La U ovviamente all'apice è più grande della U che avevamo in mezzeria. Questa volta all'apice R è più grande di uno meno R. R per U all'apice, 1 meno R per U all'apice. Doppio di infinito, C infinito. Questa è la nostra U all'apice. Riportiamo come al solito, facciamola un po' più piccola, evidenziare che all'apice la variazione delle componenti periferiche è minore. Grazie. 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 di c con uno che in realtà ci siamo appena calcolati risolvendo il triangolo delle velocità che sono quelli che abbiamo all'ingresso nella pala inserendo i tre diametri che stiamo utilizzando nella nostra schematizzazione. Quindi, fin qui non c'è mai scambio di energia fino ad arrivare al porto uno, l'interpiede di stagno al porto uno è pari all'interpiede di stagno a porto zero è pari all'interpiede di stagno relativa alle condizioni ambiente, ossia variamente h con a visto che nell'ambiente il fluido è fermo. quindi, h con uno più c con uno quadro mezzo è pari all'h con uno, cp per t con uno la seconda fratto due c con uno è pari a t con a meno c uno alla seconda fratto due c. ovviamente TR come l'interpiede di stagno si mantiene in motore, TR1 è pari a TR1 è pari a t con uno, la temperatura degli stagno è sempre pari alla temperatura dell'ambiente da dove stiamo arrivando. ora, l'icona è la stessa, c compie lo stesso, qualunque sia la linea di corrente che stiamo eliminando, in realtà la c con uno varia. ora, l'icona è la stessa, c'è la stessa, c'è la stessa, c'è la stessa. nel risolvere la termodinamica dello stadio, dobbiamo tenere conto che le condizioni termo-fluido-dinamiche sono diverse alla base, all'abice e alla mezzeria. in realtà parte non è una lunga altezza di acqua. di con i, di con em, di con em, di con em. quindi noi dovremmo calcolarci una temperatura c con uno alla base, una alla mezzeria e una all'abice. ci saranno tutte e tre diverse da di loro perché si cambia la c con uno che vogliamo ottenere alla base, alla mezzeria e all'accia. questo significa, siccome noi la c con uno la otteniamo deflettendo il flusso tramite le palette direttrici che mettiamo all'ingresso della macchia, che anche queste dovranno essere svergolate perché in realtà queste prenderanno tutto quanto un flusso assiale e dovranno defletterlo, quindi dovranno dare una componente periferica e questa dovrà cambiare a secondo, in modo appropriato ovviamente a secondo i nostri calcoli, quindi dovranno essere diversa se stiamo considerando la base, se stiamo considerando il flusso che si muove nel diametro esterno, quello che si muove alla mezzeria e quello che si muove alla base della macchia. quindi, banalmente andiamo a prendere i valori di c con uno, che non è che ci siamo divertiti a scriverli perché no, stiamo muove in fare perché ci servono adesso per fare questi calcoli termodinamici. t con a era a 288 Kelvin, andiamo a prendere i valori di c con uno che risultano in triangolo delle velocità, otteniamo t con uno in Kelvin, 268 al diametro interno, 271 alla mezzeria, 272,5 al diametro esterno, da c con uno al diametro interno è più grande rispetto a quella della mezzeria e all'atrice, conseguentemente questa energia cinerica la otteniamo a spese dell'energia interna del fluido, il valore della temperatura si abbassa. abbiamo detto che durante tutto questo tragitto trascuriamo in queste esercitazioni le perdite che abbiamo nelle avvertiture di vettrici, quindi per noi questa è una trasformazione per esempio, valorizzata trofica, t con uno sul t con uno su t con uno su t con uno, per la pressione piccola dell'ambiente di questa macchina, quindi anche in questo caso in base ai valori del piccola 1 che ci siamo appena calcolati entriamo nella relazione degli isentropi e ci ricaviamo il valore della pressione statica, piccola 1 in pascal 77.630 al diametro interno 80.639 al diametro di mezzeria 82.436 all'arice possiamo calcolarci anche il volume specifico, la densità tramite la relazione di gas perfetta ovviamente abbiamo già detto per quanto riguarda le grandezze di ristagno in questo caso temperatura e pressione di ristagno espresse sempre in kelvin e in pascal restano proprio 288 per quanto riguarda la temperatura di ristagno restano proprio, avevamo assunto una pressione di pari a 100.000 pascal se ricordo bene ieri, adesso è questo, in fatti conti, un valore che abbiamo assunto, abbiamo assunto che in questo primo tratto non ci siamo aperti e quindi anche la pressione di ristagno si conserva e resta proprio a 100.000 pascal. vi do, visto che ci siamo anche i valori del volume specifico, v con 1, banalmente i per v, e per t, quindi v1 va ad sempre t1 su b con 1, sempre con la solita avvertenza che abbiamo tre strati termoninamici diverse da valutare, v con 1, volume specifico del fluido all'ingresso del rotore, 0,999, scusate, 990 metri cubi al chilo, 0,999, scusate, 990 metri cubi al chilo se ci riferiamo alla mezzeria, 0,949 metri cubi al chilo se ci riferiamo alla mezzeria, 0,949 metri cubi al chilo se ci riferiamo agli amici estremi. Grazie.